allora ragazzi sono l'ultimo arrivato in casetta e adesso scopriremo la prima impressione che hanno avuto i ragazzi su di me non sapevo cosa aspettarmi prima impressione boh mi sembra un ragazzo molto in gamba lo sta dimostrando pure in questi giorni è un grande ale e balla prima impressione di alex sveglio puro e tosto suaglione napoletano e poi mi sembra che abbia good vibes allora quando è entrato nella scuola ale io stavo con la febbre a casa ma la prima volta che l'ho visto ballare in puntata alle prove generali ho detto wow allora ho pensato che questo è fin troppo forte e questo arriverà lontanissimo perché mi ha impressionato troppo